L'IDP è l'associazione italiana per la direzione del personale e io sono presidente della sezione campana di IDP quindi stasera siamo qui per questo evento finale di fine anno in cui saluteremo tutti i soci ma come sempre oltre alla parte diciamo di scena conviviale abbiamo anche un momento di approfondimento di temi che sono cari alle risorse umane a noi che ci occupiamo di persone e a proposito di temi cari alle risorse umane ma soprattutto a tutti quanti noi perché è un problema che interessa quasi tutti quanti quali sono dal suo punto di vista le rotte per il futuro per gestire appunto le risorse umane e stasera parliamo delle rotte per il futuro per in particolar modo inquadrando qual è il rapporto tra la tecnologia e le persone sappiamo che ormai la tecnologia guida in qualche modo le nostre azioni e guida le nostre aziende e sta intervenendo su tutti i processi anche organizzativi delle delle aziende però è importante capire e se ne parla tanto di quale sarà l'impatto poi sulle persone anche dal punto di vista occupazionale e questo è un tema molto delicato io credo che stasera ed in generale non possiamo tanto parlare di futuro in maniera predeterminata e deterministica dobbiamo più che altro individuare degli scenari e capire qual è lo scenario più probabile quali sono quelli più probabili verso cui ci dirigiamo e questo non è sufficiente perché lo scenario più probabile probabilmente non è quello più gradito per la crescita anche della società della civiltà e delle persone quindi credo che il nostro ruolo oggi qui sia anche quello di orientare gli scenari affinché la tecnologia venga utilizzata in maniera responsabile etica e si possa veramente parlare di un umanissimo digitale di umanissimo manageriale quindi ci proviamo quindi gestione a misura duomo delle risorse umane chiaramente noi parleremo ancora di questo tema con la nostra prossima ospite che è la presidente nazionale di AIDP. Dottoressa Marandola lei ricopre un incarico importantissimo di vertice all'interno di questa straordinaria organizzazione la domanda è molto semplice anche molto diretta qual è il ruolo della direzione risorse umane nel gestire e governare appunto la tecnologia? Allora è un momento sicuramente di grande complessità da un punto di vista organizzativo e strategico e anche economico e sociale naturalmente chi gestisce le risorse umane o come preferiamo dire noi le persone ha un ruolo di grande responsabilità in termini di ascolto e di valorizzazione oggi più che mai le persone devono essere al centro delle organizzazioni e vanno trattate con empatia e cura e questo sicuramente deve diciamo migliorare nelle nostre organizzazioni. Siamo in compagnia in questo momento del dottor Rubati un ruolo importantissimo all'interno di Intesa San Paolo innovazione e gestione delle risorse confliggono in qualche modo? Beh no l'innovazione deve essere messa a servizio della gestione della relazione con le persone e quindi le nuove tecnologie possono essere un'opportunità se utilizzate correttamente se analizzate correttamente c'è la possibilità di utilizzare le tecnologie per migliorare quella che è la fase di recruiting ma anche quella che è la fase di gestione del personale. Ci sono delle criticità all'interno della gestione attualmente? Beh il nostro mestiere è proprio quello di riuscire a far incontrare in maniera positiva la domanda e l'offerta dell'innovazione cercando di capire quali sono le criticità quali sono i bisogni trovando delle soluzioni possibili che siano compatibili e quindi non invasive della gestione del personale ma che siano compatibili con le strategie che ogni singola azienda decisamente e legittimamente sceglie. Nel corso di questo straordinario giro di interviste abbiamo incontrato anche il professor Daponte consigliere generale della fondazione Banco di Napoli al quale non possiamo non fare una domanda ben precisa professore qual è il ruolo della persona nel futuro della società dal suo punto di vista? Io credo che la persona è al centro delle attenzioni del legislatore per una società più giusta più equa più moderna che sia competitiva ma che ponga al centro dei suoi valori la dignità dell'uomo. Quindi questo include anche la gestione delle risorse umane in quanto persone? Non possiamo non tenere conto che nell'ambito dell'innovazione tecnologica un tema decisivo sia quello della tutela dell'individuo, la tutela di valori che sono valori fondanti della società e che non possono essere trascurati soprattutto tenendo conto che la modernizzazione non può dimenticare i valori fondamentali dell'individuo, che sono i valori costituzionali, sono valori che meritano di essere protetti e garantiti anche in una società più moderna e più innovativa. Siamo in compagnia dell'assessore Barretta, assessore al bilancio del Comune di Napoli, un ruolo veramente molto delicato in questa ultima fase e in modo particolare. Assessore, si parla di risorse umane e di gestione delle risorse. Confligge un attimino con i rapporti reali poi con i dipendenti? No, direi che anzi è la chiave di volta. Noi dobbiamo essere in grado in questa complessa società nella quale si esagera nella conflittualità, trovare un rapporto positivo con tutti coloro che si dedicano a un'impresa, al lavoro, all'attività, soprattutto in situazioni collettive dove ci sono più persone che insieme producono. Questo vale per il privato, vale per il pubblico, vale per il Comune, per lo Stato, vale per le imprese. La chiave di volta sono le risorse umane, sono la persona, la persona al centro di qualsiasi progetto, allora quella è la strada che ci può far guardare con un po' di fiducia al futuro.